Una giornata sicuramente sentita qui a Santa Maria, sentita anche per noi perché ci teniamo a fare bene e a regalare questa piccola soddisfazione ai nostri tifosi. Buona partita e continuiamo così. Quanto ti sei arrabbiato però su quella disattenzione nel primo tempo che poi è costata il pari alla prima verazione della Vigor Castellabate? Tantissimo, proprio perché avevamo detto prima della gara di essere concentrati su un minimo pallone, visto che già dalle gare precedenti creiamo tanto per raccogliere poco e quando poi alla prima semmai occasione rischiamo di subire gol. E così si è verificato. Poi per fortuna i ragazzi hanno alzato un po' i ritmi come chiedevo, hanno spinto un po' sull'acceleratore e già si sono visti subito i risultati. Ecco, una squadra che effettivamente quando gioca a ritmi elevati riesce a mettere in difficoltà chiunque, non appena poi li abbassa può andare in difficoltà. Sì, questa è la caratteristica principale di ogni squadra che cerca di giocare, che cerca di fare il possesso, la sua arma vincente. Come poi si abbassano i ritmi andiamo in difficoltà e andiamo a subire le squadre avversarie. Poi quando alziamo i ritmi riusciamo a esprimere il nostro gioco, le nostre trame migliori. Siamo ancora all'inizio del campionato, però già arrivano segnali importanti anche dagli altri campi. Con la vittoria di oggi la Polisportiva è da solo in vetta alla classifica. Un po' presto per fare questi conti. Noi guardiamo partita dopo partita e sappiamo che adesso ci aspettano tre gare difficilissime, di cui due su campi di dirette concorrenti. Speriamo di farci trovare subito pronti, di entrare subito nel vivo del campionato.